Non lo sapevo che lì era mio fratello. Che cosa vi ha detto a Martarella? Assolutamente, cioè non ci ho parlato io con Martarella, non ho avuto modo niente. Signora, però il fatto che fosse qui il capo dello Stato è un impegno molto forte. Certo, no, per noi è un grande onore avere questa, la sua presenza, questa grande personalità, anzi, per l'amor del cielo. Spero solo che venga fatta qualcosa di vero e questo non succeda mai più. Mai più. Io ho perso il mio fratello, ci dovevo essere anch'io e questo non deve accadere. E ho perso, anche se non li conoscevo, li vedevo, tanta gente vista e poi ho saputo che non c'è più. Grazie. Grazie.